Saranno circa 30.000 i quaderni, suddivisi in sette differenti tipologie, che saranno distribuiti a breve negli istituti scolastici della provincia di Alessandria, sulla base delle indicazioni dell'ufficio scolastico regionale. Si tratta dei quaderni solidali che sosterranno l'istruzione degli studenti di tutte le scuole, dalle primarie alle secondarie di primo e secondo grado. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, evoluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Fondazione Soli dal Onlus, si chiama Un quaderno per te. Un piccolo, grande sostegno contro la povertà educativa. La distribuzione sarà gestita dai servizi caritativi promossi dalla Caritas Diocesana di Alessandria, diretta da Giampaolo Mortara, e sarà cura degli insegnanti consegnare, in modo riservato, i quaderni agli studenti che ne avranno più bisogno. Non possiamo che essere soddisfatti, ha sottolineato Pierangelo Taverna, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, per il carattere di continuità che questo progetto ha assunto nel tempo. La solidarietà, in questo caso nei confronti degli studenti, ha un significato importante. Il contrasto alla povertà educativa è un impegno che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha detto ancora Taverna, si è presa in carico, con grande senso di responsabilità e investendo importanti risorse per i giovani del nostro territorio, in sinergia con l'Associazione delle Fondazioni e Cassa di Risparmio italiane, le istituzioni e le organizzazioni del terzo settore. Il nostro è un dono semplice, quasi scontato, ha aggiunto Antonio Maconi, presidente della Fondazione Soli dal Onlus, ma indispensabile per la quotidiana attività scolastica di un alunno. Ha un valore modesto, ma rappresenta un onere aggiuntivo per qualsiasi famiglia che versi in difficoltà economiche.